In questo podcast, no aspetta non è un podcast perché c'è un podcast, stasera correremo della droga Ok, interessante Bambini mi raccomando quando vi offrono la droga accettatela perché costa Sì ma prima mescolate un cubo di rubik e risolvetelo in 5 secondi e saprete se dovete accettare o meno Cazzo finisce Non lo so a caso E' fatica Doomseeker Doomseeker.exe Entriamo nel server non tanto segreto che è spammato sul mio discord E questo non è spam del mio discord ma è spam del discord mio Ok Io non commento nemmeno Non ho neanche bevuto birra stasera Io nemmeno non ho scoperto i print Anche io l'ho scordato Però mi ha detto me lo credo Allora, intanto perché OBS non mi prende Doom come al solito? Perché ogni volta è il tuo problema A vero che OBS Doom non parte subito Esatto esatto Ora c'è Siamo qui Ci siamo A me è giù di Doom fa quella cosa Ehm No boh Me l'ha preso adesso Ok E rarriati qua mi pare In questo livello bellissimo La passo nella stessa? Oh buonasera Oh buonasera NBC Sì sembra la stessa Siamo esattamente nello stesso livello di ieri Quello in cui me l'ho staccato io Esatto perché l'abbiamo staccato tutti Alla fine sì abbiamo staccato quello Sì sì Ok Io sto sempre pensando in speed Di rannare qualcosa di sto WAD ma Ehm Magari prova in In Un'altra difficoltà Eh ma le accentuazioni sono su ultraviolence Le categorie Base diciamo E che è che? Oh vabbè Falla in no monsters Eh Aspettate Eh Problema Cosa? Non so Ma dice che la mia lezione è diversa Dì Ma se abbiamo giocato ieri Però è piuttosto cancellato Tolgerlo e forse lo scaricare Ma c'abbiamo Ma se lo puoi Ci abbiamo giocato ieri E hai molti tanti problemi Le musica Effettivamente 3.0 alpha Quanto è una bacione? Vabbè Capito cos'è? Sì perché dice che la versione Che è il center 3.0 alpha A me dice che 2.8 Cazzo Ho sbagliato io a mettere la versione di sounddron Facciamo una cosa Ma io sto usando la 3.0 alpha Perché se no Eh ma Usavo quella vecchia Quella nuova Quelle vecchie Per entrare Eh Ma io anche Aspettate Non ti preoccupare Tanto abbiamo Andato morti Ok 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 Riavvia Riavvia il server Io resto con questa Perché dovrebbe farmi entrare comunque da questa Teoricamente sì Perché anche ieri ho usato questa versione Tu stai nel canale alpha Io non so che versione O dire il vero No perché guarda Non lo so manco io Di tale verità La teoricamente dovrebbe essere 2 Io sto utilizzando 3.0 alpha 17.08.06.20.2.40 E' già impostato per essere la vecchia versione di sounddron O prova aspetta Prova di nuovo Quindi senti da problemi Altrimenti poi prova a dire A Mi mette Quello A fa Nel calcio è quello Negativo Prova Perché vuoi Strano Mi sembra finire poi Diceva che stava un aggiornamento Ma vorrei che anche quello Teoricamente no A me non ha chiesti gli aggiornamenti Ma io non mi ricordo se l'ho aggiornato Comunque dovrebbe essere compatibile con il Mazzan Drone 2 Aspetta Sto Ho messo sul canale alpha Nel caso cambia qualcosa Aspetta Prova l'abbiamo Auto Updater Scaricata le definizioni Yada 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 Prega cavoli Bing Eeeh Io Niente Scaricati da 3.0 alpha Allora sto punto E' provare ad aggiornare No è che Stavo utilizzando L'azzonamento Che diceva il software Ma io questa versione ho di Zandrom Sì ma Ti ha aggiornato un Seeker Non Zandrom In teoria Zandrom Non c'è neanche aggiornato Ah si mi avrà donato Doomsic Non Zandrom Allora Zandrom 3.0 alpha Pure io Però Boh Non capisco NBC Scaricati Zandrom 3.0 alpha Dal sito Zandrom Fai prima No sono arrivato Sono andato sul sito Sto Lo sto scaricando L'ultima versione La stessa che ho scaricato ieri 3.0 alpha Qua sta scritto 3.0 Non sta scritto nessuna 3.0 alpha Dovrebbe esserci dentro Un file La cartella forse dentro C'è Aspetto Ah no Non è la cartella Se a volte Zandrom Da problemi In generale Comunque Non è la prima volta Che c'è Ieri funzionava Perfettamente Io Quasi volte Dovevo andare Con Doom Avevamo un sacco Di problemi In questi Nove anni Abbiamo visto Di tutto Proprio Di tutto Il nove Anni Pensa io In vent'anni Ehm E' ancora Perti I software Senti Un attimo Ma prima di Doomseeker Non c'era un altro Programma Per l'online C'è anche Zdaemon Zdaemon No no Era un altro Programma C'era Eid Mi pare che si chiamava Può essere C'era un programma Di tipo Potevi aggiungere Le persone Come buddy Comunque Lì Il server Aperto Ah Aspetta che rientro No Niente L'ho appena Reinstallato Sì sì Prova a rinconnetterti Eh ho provato Proprio ora Mi dava problemi Aspetta Non stiamo Dentro Stiamo aspettando Ma che cazzo Sta succedendo Eh lo Non lo so Sembra Aspetta che ho Di nuovo È pieno È pieno di reverence Sto posto Vedrò un attimo Le impostazioni Se c'è qualcosa Di strano Ma non credo Anche qua Dice che Usi la versione Scorretta Ma perché Se è quella Io sto usando La 3.0 Alpha Io anche Non ha senso Ma riesce A convivere un casino Può collagarsi In altri server Aspetta Prova a fare una cosa Visto che Tutti Stava la La Versione di prova La versione Di sviluppo Provo quella Un attimo Ed è quella L'alpha Con la di sviluppo Non sono sicuro Prova Sì sto vedendo Che Ah è direttamente Fa Ok allora Devo applicare Manualmente Da quando Puoi usare I teletrasporti Dalla Dalla Aspettatora Da sempre Non mi ricordavo Ma no Mi sta Ma mi prende Per in giro Dai Io odio Quando devono esserci Problemi E non facciamo Mai delle prove Prima di andare In live Cioè Sento Ma è in meno Della diretta Dai Beh ieri Infermente è strano Però ieri Andava tutto Perfettamente E questo è Bello Ieri tutto a posto Oggi Non vorrei Lavorare E oggi Doveva sminchiarsi Proprio Oggi E perché ho già fatto Una speedrun No vabbè È indecente Quella speedrun Doveva migliorarla Era una tasso No no Normale Normale Ok Allora Ho applicato I file Della versione Di sviluppo Se mai Vuole funzionare No Non capisco Allora Dice che la mia versione Ecco No Anche con la 3.1 Alpha No stesso 3.1 Sì Perché ho Resto Quella di sviluppo No io con la 3.0 Alpha Almeno io La 3.0 3.0 anche io E io prima Che ho provato La 3.0 Non mi la dava Aspetta Ma Non ti fa Ma Vediamo se È proprio La versione Precisissima Quella là Facci La screenshot Dell'errore Tu la signale 3.0 Poi riesci a leggere Cos'altro c'è Sì aspetta Mo sto rimettendo I file originali Così ti dico La versione Fai la screenshot Dell'errore Sì Faccio Lo screenshot Anche se Considerando Un po' Doppio scan Perché se no Ma dove è l'uscita Sul livello Ok Allora Lo sto per mettere in Spammy spam Ok Spammy spam Ah non si vede Non si vede Aspetta Spammy spam Spammy spam Non trovo l'uscita Sul livello Ci sarà da qualche parte No no Non c'è Ho visto tutto il livello What the fuck Vabbè ora vediamo Aspetta Prova a fare Prova a fare L'immagine Da Dal Cos'altro Di Forse Che per qualche motivo Mi funziona Ok Abbiamo problemi Tecnici Stasera Yeah Dove è sta screenshot E' un attimo La sto seccando L'ho appena fatta Ah Pensavo Alla prossima Stasera Spammy spam No Prima ho provato Con le pulsate Print Screen Ma non andava Ma devo capire Dove il tavolo Me l'ha messo I soft Della NVIDIA Uggribbio Non lo so E' turbo Fa il GM Quindi Sai lui Com'è impostato Il server Ma è Tu l'imposta Stavo Dove Dove Cavolo Mi ha messo I file Fammi vedere Qualche impostazione Ma Non credo C'è nulla Di La password Non c'è nulla Qua che indica Per le versioni Dipende Forse Con quale Engine L'hai avviato E Boh No Non credo Che C'entra Ai god Io comunque Ho messo Come base Zandronome 2 E anche 3 e 2 Quindi non vuoi Poter entrare Ma poi Infatti A me fa entrare Io sono dentro Infatti Non capisco Perché non E' NBC Che ha il Zandronome Buggato Per qualche motivo Eh sì Per qualche motivo Da ieri a oggi Qualcosa è andato Caputo No live Sta spammando ora Il mio canale Anche se Sono live Già da 14 minuti Ok Allora Eccolo qua Screenshot Caricato Finalmente C'è caricato Sì Ho caricato Lo screenshot Allora Vediamo un po' Allora Fail to connect Your version is different The server is using Version 3.0 Alpha E lui Allora 3.0 E What the fuck E' la stessa versione 3.0 What the fuck Non ha senso La brutta Lì con l'ultima azione Scarchiamo tutti e tre La 3.1 Usiamo La 3.1 Tutti e tre A store A sto punto Però devo aggiornare Quindi Nella screenshot C'è scritto 3.0 Che sta usando lui Boh E ho chiuso il server Ok Allora Aggiorniamo tutti e tre Al Zandronum 3.1 Quindi la build Del primo Ok Ho capito Zandronum Punto Allora Pop pop Due cazzate E poi la 3.1 E quella di sviluppo Allora Quella di sviluppo Quella di sviluppo Sì Infatti Però vabbè Basta Develop and build Archive Ok Non è un installer Però No 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 E' manuale Non ce l'hai storia Dove è mo' Aspetbo Dove ho trovato la cartella Non mi ricordo più Dove L'ho detto Il time programmi Quello là Per i 32b Ah Zandronum Ah Qua è un sito Io ce l'ho già pronto Io ho la cartella Di Doom Dovrebbe essere questa E io ho un po' Tutto sparso Quello Eh Se siete disordiati Ho c'è due Io ho tutto in emulatori Tranne Zandronum Nello specifico Anzi Dovrei effettivamente Dovrei un attimo Riunire tutte le cartelle Di Doom Prima o poi lo farò Allora Doomseeker Devo impostare un attimo Le patch di Doomseeker E adesso Devo fare partire Il server Di nuovo In questa versione C'è un attimo Che sta Qualcosa che non so A low access Intanto Imposto Doomseeker Per questa versione Ehm Ma facciamo una cosa Metto la condivisione Ok Il server è partito Ma un attimo Che voglio provare Anch'io se Ha cambiato Faccio display capture In frattempo così Faccio vedere Qua sto facendo No In frattempo Il server è in piedi Teoricamente si Ok Perché me ha fatto No un attimo E' 3.1 Nel frattempo Configuro Doomseeker Con Zandronum 3.1 Oh Alleluia Funziona Oh Non l'ho capita Sta cosa Manco io Sai che cazzo Ma basta che vada Sai ma tu non hai Adonato un cavolo Tu Io però devo cambiare Impostazioni ora Cazzo Si ora devo Devo rimbostarmi tutto Ma io le impostazioni Mi le avevo tenute Per fortuna Eh si Perché le uniche cose Che andava a modificare O non i file Si Non l'ho capita Ora devo impostarmi Aspetta un attimo Devo impostarmi tutto Ok Aspettiamo un attimo Ancora Azioni Intanto come se Infatti Aspettiamo un pustodine Che devo modificare ogni volta Trovo il suo screen Andavo access Ora stavo vedendo se era possibile Cambiare La skin Ma sembra che sia impossibile No le skin Solo se mettiamo Dei wad particolari Cosa? I wad per le skin Per cambiare la skin Però effettivamente Prima di uno cerco un wad Per cambiare le skin Solo Per le skin diverse No ma non ora Altrimenti poi Non ora no Ora no Adesso dovevo chiedere il server Per mettere un altro wad No dovevo chiedere il server Per mettere un altro wad Ok un attimo Che riavvio Ho messo l'opengl Ok Ora aspetta se forno Devi mettere anche il nome poi Posso opzioni Salto video mod Ok l'opengl Si vede bene Cioè che cosa È accaduto In queste 24 ore Non ho capito E torno subito Mentre nei posti Un attimo arrivo Si Io mi sto Mentre puoi E provare la mapa Per capire Che cosa bisognerà fare Mi sto un po' spoilerando Mentre mi godo Sta musichetta Natalissia Che tra poco Verrà sporcata Dal sangue Dei demoni Che belle cose Beh scusa Non è la realtà Ehm Credo di si Oh nooo No cosa Nell'altra versione Di Zandronom Io lo metto a finestra Posso ingrandirla Col quadratino Sopra In questa versione Non me lo fa fare Oddio E non posso Mettermi La resoluzione Che voglio io Ok Vabbè Abbiamo messo Una versione Di sviluppo Non male Che queste cose Accadono Che pal Quale problema c'è ora Ora non mi fa ingrandire La finestra di Zandronom Mette schermo intero No Schermo intero Mi si bagga tutto Non vedo OBS Sull'altro monitor E qual è il Ah A me è la schermo intero Scusa devi andare su video Video option Lo so Lo so Lo so L'ho già fatto Uguale identico Prima nell'altra versione Oh Il quadratino sopra Cliccabile Il quadratino Quello per ingrandire La finestra In questa versione È grigio Aspetta Metti a spectratio Aspetta Vai dove c'è il videomod Ah è Tornata Aspetta Aspetratio Metti all E puoi cambiarla da lì È già su all Adesso c'è un messa Il problema è Il quadratino Per ingrandire la finestra Non me lo fa cliccare E non me la fa ridimensionare Vabbè Ma il video Almeno è abbastanza grossa Per vederci Sì Ma OBS è sballato adesso Vabbè Impostare l'imposto OBS Se Che palle Di che è stata L'idea di Intarsi Allora Impostiamo Un attimo Gioco Su OBS Transform Sta canzone da fare Mi sta cominciando a stare Sul cazzo Cosa? Sta canzone da fare Allora Preferire Vedi Un episodio Delle video game nerd Di Natale Che può essere Al dove Che ti romano Quello di Natale Quello di Vamo perso L'aereo Sì Lo so che c'è Però non l'ho ancora visto Intanto un attimo Che imposto Di nuovo la roba A parte Eh Karma Allora Speaker mode Output 32 bit Float Restart sound Ok Sono apposto Player Il nome Il colore Ok Questo Mais control Reload R Zoom Z Use E Jump Spazio Crouch Control Ok Ci sono Lo so pronto Ok Signori Buona fortuna È ora di bestermiare Ah ma lo spawn è qua Che figo che Cosa? Lo spawn Siamo tutti qua Guarda In fact non lo capisco A volte sembra che sei apposta Per il co Oltre no Attenzione che qua la vita va giù subito È quello di Non leggo Non leggo È media Ok Non viene I ultimi plenty Dietro le vite Oh my Devo abbassare ancora il volume Chi è morto? Io Io Devo abbassare ancora il volume Ok A posto Quanto è morto Io pure Ok non più Allora io Non leggo Non leggo niente Le scritte sono microscopiche Perché tu hai lo schermo troppo grosso Quello è il problema Ma ieri ci leggevo Era normalissimo ieri Ma Io Non ho capito Mi sono capito Che qualunque gioco Tu hai un uovo Hai quel problema Per via dello schermo 4k Non so Non lo so Ma non lo so Vabbò Ancora 748 Poi Io sta mappa Non la capisco Che dunque Io sta mappa Non ho trovato l'uscita Prima Il spettatore Beh Non ho capito Come cazzo è fatta Penso non con Doom Builder Visto che è il 97 Come è fatta Nel senso di Non come è fatta Come Vabbè Penso sia stata fatta Con Doom Ed Nel senso Come è impostata Con il cazzo di andare Insomma Ah come è stata progettata Finisce Ma che tu fai da solo Ma non so Allora Options Un set video mod Oh cazzo mi stanno facendo male No 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 Questa è ripata No Ah ma qua c'è un mitra Ancora lanciano L'azzo Mi sto mancando tutti Oh merda E ancora non è Respaunato lo zabaione Zabaio Non si può ingrandire Queste scritte Sono troppo piccole Ma guarda Non si può ingrandire Non si può ingrandire Quante è il tuo schermo A me non è 1080 A te Il mio è 1080 Il mio è 4k E' quello Grazie 4k Giocare ad uno Su un 4k E per forza E su questo monitor Non ci posso fare niente Cambia molto No Gli altri due monitor Sono in uso Ma non è due monitor appunto D'altri come sono Uno che non è neanche 1080 E l'altro è 1080 E non poi imposteremo I giochi sul secondo monitor Tipo Dovremmai configurare un altro monitor Come quello principale Non si può fare Tipo il cambio veloce Voglio dire Credo di no Sposto il zandrolum Aspetta Aspetta Armatevi Sposto il zandrolum Su quello Il 1080 E' ma è comunque E' comunque impostato Per il 4k Se il tuo primo schermo Il 4k No 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 E' in automatico Si fa Allora fai così Allora Ok non dovevo farlo Sposto E' fatto la grande minchietta Della giornata Allora Dove è il zandrolum Sposto qua Continuo a non capire dovevo andare Però Ok Guarda la mappa non aiuta Ma infatti Sei un quadrato Non capisco No scusate Sono anche i piondi missili Potrei usare Ma mi sa che Sei appena passato di qua Prima Ma infatti Beh mi son perso Si sono No è troppo E' comunque piccola La scritta Hai cambiato i bimbi Lasciamo perdere Allora Dunque Che cazzo Sta laggando Come sta laggando? What the fuck Da di FPS? No no Di connessione Sparo e Come? E li colpisco dopo Cazzo Sono morto Infatti sono appena morto Vabbè Da OBS Da Twitch Si vede Che sto laggando Si vede il video Aiuto Eh sono morto Tutte due Sono quasi morto Asso Sono l'ultimo Come fai ad essere quasi morto Che hai 28 di vita? Eh 28 di vita È un po' poco Ma quando ho iniziato la frase Ne aveva 78 di vita Egnog Egnog Ok non lagga più Adesso Ok non lagga più adesso Ah poi come poteva laggare Ma infatti ho capito Di connessione Ma non ho mai dato proprio di connessione Nel server finora Infatti ora è normale Poco fa stavo laggando Quando ho cambiato monitor Quindi non era internet Era il monitor No ma stavo laggando di connessione Perché io sparavo E li colpivo dopo due secondi Non di FPS Di FPS Doom non vuole laggare Ma guarda che Alcuni WAD forse si No È molto più di NUTS Una linea Che nettamente Non è quella Con cui è stato creato Prova NUTS.WAD Poi ne riparliamo Qual è? Qual è? NUTS NUTS Sì NUTS NUTS Ah NUTS Tu Mai sentito Sembra che stavi dicendo Quella parola Che non puoi dire su questo No non quello Ok Mi sono messo un attimo Dove siete? Dove siete? Io sono ancora al centro Anch'io sto al centro Ma sto con questi razzi A ricerca termica Appena riesco Vengo a darti la mano Solo che adesso sono Anch'io L'ho messo male Qui è pieno di eggnog Venite a curare Un attimo Che io sono circondato Ecco Uno è entrato Merda Quazzo Non è entrato No Madonna Ho preso il giro Il trasporto senza vorello Non so più dove sto Ah Buono sedia al centro Stavo venendo a salvarti Ma Non so vicino a chi sono quasi passato Ho visto degli spazi Non sono io Chi è quello che stava sparando? No io non sto sparando Sono io Sono io Ah ok A meno tu Elia Dove cazzo era che si usavano? Aspetta che Allora Facciamo ancora la stra pulizia di Natale Di qua ci sono già andato Allora di qua era dove ero rimasto bloccato Di qua che abbiamo Viene Nate Ma che abbiamo Devo imparare a evitare sti cazzo dei missili dei Revenant Cosa 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 hai imparato a fare? Io ho imparato ormai Insomma Dipende dalle zone Tipo quando sono in Le strette Faccio una fatica ad evitarli Ci giocano Da più tempo di te comunque Mi ha fatto più spiega di te Vabbè Speed E vabbè Io ho doom L'ho Ho toccato così poco Che è già un miracolo Che riesco a sopravvivere più di un minuto Ah qua Ma da dove? Non sapevamo giocassi a doom No io non do Non ho mai toccato a doom Ho toccato Mi sembra che fosse L'unica cosa più prossima Doom che ho toccato È stata una delle Una delle petra Ma di doom Ma non mi veniva Archevile Archevile Dove? Fuori Come ce l'Archevile? No 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 Ce l'Archevile fuori Nasconditi quando sei in fiamma Nasconditi dietro una parete Non ti fa danno No io sto secando Un attimo di girano Ho trovato Gli ho dato due colpetti a sto seno E' quello che dobbiamo uccidere perché sennò ti fai ritrovare in vita tutto quanto E' qua fuori E' qua fuori Guarda però ho troppo capito adesso E' qui fuori da qualche parte L'ho visto Eccolo qua Eccolo Ok è morto E' morto Da uno Aspetta Stanno Ci stanno picchiando Ora è morto anche il barone Occhio che stanno ancora parecchi di quelli la che tirano ai mitili Li hanno fatti ritrovare in vita mi sa Mi sa che sono usate Allora dicevamo Ero qui Oh sto morendo sto morendo Dove stai? Ok no sono vivo Dove stai? Era al centro Però non mi son curato Eh al centro E' ancora pieno Non ho ieri dove si debba andare adesso io Ma è nulla che poi direi anche di cosa sia successo per fare La large part Sti revenant Più appiccicosi di quelli di un 4 I revenant Sono fastidiosissimi Anche su dom 4 E' il resto Peggio Ma non è che abbiamo bisogno di una chiave Oh mio Ma non sono Ok di qua c'è roba Ok qua non ci siamo andati Qua c'è roba Qua dietro c'è roba vedete Qua dietro dove? Qui Aprite la mappa Sì Aspetta Ok Ero finito in un sacchetto di attività Oh merda Io ho la mappa aperta e mi stavano attaccando Non ci ho neanche fatto caso E che sta un altro arsevile Non l'abbiamo notato Dove è l'altro arsevile? No credevo Stanno ancora parecchini miste Allora dico Ehi che Ma gli ha fatto il problema in vita prima Mi sa Che è rimasto parecchio fuori Sì ma qua dentro Qua dentro dobbiamo entrare forse C'è un'altra roba C'è una porta Ok C'è una porta C'è una porta Entrate qua Entrate Ehm Che hai fatto? C'era un tasto E che ci siamo detti ieri? Eh ma tanto non è che abbiamo molto altro da fare Eh vabbè tanto abbiamo ancora 17 nemici da fare fuori Che abbiamo modificato? Che cos'è accaduto? Qua è esplorato Aspetta Aspetta Oh Che abbiamo qua? Un gran spreco di tempo Ok questo corridoio qua l'ho visto prima Ma non penso di essere andato Ma è tutto già morto quindi Ok anche Aspetta ho trovato una porta Che non si apre Eh quella in cui ero prima io Qua c'è la Megasphere Aspetta Ma dove è stato tu? Ho trovato un segreto comunque L'ho trovato io mi sa Non tu Una volta io sono molto addosso ad una Megasphere Per l'ho stato stupendo Ah se l'altro tosto qua Ho fatto anche la Highlight Da una porta qua Niente nemici perché scherza Vediamo se si è aperta quella allora Ok si è aperta l'uscita Ok 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 Ho già iniziato con un Hell Night qua davanti Ok Buona donna Ma 29 mostri ci sono solo Cosa? Sono 29 mostri ci sono Ah che mappa è? Ah ecco perché Ok c'è il Mastermind C'è il Mastermind Ma questo è un campo da hockey È un boss praticamente questa mappa È morto Ah hanno fatto un livello boss praticamente Su un campo da hockey Ok pronto per il boss Le carica polà Le carica polà Le carica polà È morto te l'ho detto Come? What the fuck? L'ho uccisi Ti ho sparato Ti ho sparato finché non è morto Ah Beh È un attimo che funziona Ultimo nemico dai Carica Ok Sono morti tutti Chiave rossa E dove è l'uscita? Non mi dire che è l'entrata Sarà di qua No L'ho vista io aspettate L'ho vista Ho visto una cosa Una linea rossa Ecco Ecco l'uscita Ok Occhio Anche sto Ma io sono spawnato dai maiali Ma io sono spawnato da sta roba Che cazzo di spune? Sono spawnato dai maiali Io Io pure Però mi sono accorto In tempo Ok C'è l'uscita? Sì L'uscita di già No Serve Serve la chiave rossa per l'uscita Stando diminuendo i mostri In stiamo app Che cos'è? Sono riparato i pigri Questa è una piccola Grazie a Dio Ci manca solo raso il file Ma che cos'è? È diventato pigro che ha fatto il WOD? Che cazzo ne so Stiamo appena più semplici di prima È diventato pigro È diventato pigro Ma il peccato è che cazzo di ordine Poteva metterle Pigrizia Pigrizia Che stava la pizza da mangiare Ecco cosa Si vede che Doomed Era più fastidioso Da usare Rispetto ad un builder Questa mappa Ha un problema di munizioni Mi so Ho la motosega Sarà in mezzo la chiave Eh sì Sono delle piattaforme Tutto può salire Occhio Da un nemico dietro lì Steglia Questo qua Ecco C'è chi è blu qua? Chi è blu qua? Chi è blu Chi è rossa Possiamo uscire Serviranno tutte mi sa Potremmo scoprire No ma sarebbe solo quella rossa Diceva Va Eh forse ha ragione Surtroppo come vedrai un altro muro Eh sì Chiave blu Ma se dove è uscito Ok Oh ma no Siamo in città Ma siamo su un treno Poi treno Oh ma quello è un arco Oh merda mi ha preso Sono morto Veramente sono dietro di te Come sei morto Sono quasi È un modo di dire Sono morto nel senso che No Eh sì fuori Eh sì fuori Ma volevo prendere Ok la soul sphere Non la puoi prendere Io sono morto davvero Anch'io Io per poco ho evitato La morte da Lasswell Ero andato indietro Perché stavano 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 da paione Io stavo cercando di prendere La soul sphere E non Era solida Sembra che non passo danni Dove è il tuo cadavere lì? Cosa? Ah eccolo qua Ecco il tuo cadavere C'è anche il tuo fucile Quando morite Cercate di lasciare a terra L'arma più potente Eh la stessa Sì come se possiamo sapere Quando dobbiamo morire Eh basta guardi la vita Tipo ora Lascia a terra L'ha già visto A te non chiede Sì è l'ultimo Eh Ma sparagli con la Gialissi No? Sì Mi sa che non è morto Non so manco se lo sta Non sta manco bloccato Che mira Devi nasconderti dietro i muri Quando sei in fiamma Toglie sempre 82 Anche con l'armatura Anche con l'armatura Ma perché l'armatura Copre il danno Sì infatti Però Il totale è sempre quello È una percentuale Che viene rimossa Dal danno Complessivo Con l'armatura Non ho mai capito Come fuso l'armatura Comunque Trova a passare l'intorno O se trovo qualche alternativa Previ quel pulsante C'è un letto Ok va bene C'è la lascola a bagno Ok va bene E che Saranno tutte Sì Sono tutte così Camere Tutte camere doppie Che cos'è sto posto Un hotel E mi sa che è un hotel Con la stella di Satan al centro È un hotel di Satan Ma Ok È un water natalizio Ok questa Mi piace Cosa È l'immagine Che adesso Lo studisco Dite che è una trappola No Non è una trappola Vai entra Cosa è un hotel E' un hotel di Satan E' un hotel di Satan Cosa è un hotel di Satan E' un hotel di Satan cacodemoni emorroidi no? si oppure sono più emorroidi pain elemental perché spuonano lo soul sono rotto i coglioni pain elemental pain elemental è l'ufficiale emorroid diciamo che forse tutti i mostri aggiunti su don 2 mi stanno sul cazzo quindi l'elemento è l'archevile e il revenant allora il revenant mi sta sul cazzo l'archevile nella zona aperta mi sta particolarmente sul cazzo diciamo che leggi che supporto sono gli arachnotron forse gli archevile ti entrano direttamente nel culo vabbè gli arachnotron gli arachnotron sono veramente non sono i doom 2 il mastermind è un boss è il boss finale del primo doom che effettivamente lo credo è che non il saberdemone no il saberdemone è il boss finale del secondo episodio di doom 1 si del secondo perché nel primo è quella sorta di spagno no nel primo sono soltanto due baroni stavi per morire malissimo beh il culo è stato la mia morte non prendere quella soul sphere che non serve a niente è una trappola è una trappola è una trappola è una trappola corri scappola c'è i baroni sa avrò perso quanto 10 minuti per buttarlo tu però a meno sei l'unico vivo eh lo so se che hanno di fare attenzione ma segali segali no no non ti amo la volta che ho fatto sta cosa e ora sei morto sega i baroni è un canale safe for work siamo family friendly segate i baroni questo è doom ragazzi noi siamo family friendly si facciamo tutti i rest auto park va ok oh my god si pagano le un po'... they kill the arch wine sono male good 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 Anni morte Ma voi Cosa partì con il trae C'è la textura di un pulsante Messa malissimo accanto alla porta Dall'interno della stanza da letto Oh ma che cavolo ho fatto Ascensore Che cazzo di ascensore è Hai preso l'ascensore Ma che cazzo di ascensore è È un ascensore No sono morto sono morto RIP RIP RUN Scappa 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 Schiva scappa corri 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 Non ti fermare vai 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 Ma che trovi Schiva 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 Usa le tue abilità Di FPS Sista Di solito Con sono assaggiù sem La preferisco fare lo speedrun Che sta spero sabaglione qua No Basta la chiave più Ok Che non l'avevo trovata Non è Dico a dire ci inganno Mentre torno indietro Entra 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 Scendi scendi Non so quanto convenga Ammazzali e scendi No usa il fucile Che devi sciotti col fucile E ma devi essere il vicino Però per sciottarli col fucile E stanno ancora No 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 Sì Oddio È doloroso da guardare È doloroso Che si può fare Stai lì Stai lì Aspetta che si suonano i bastoncini E farma salute Farma Farma con calma Non so domani a premere quel cavolo di pulsante Farma con calma Aspetta Stai lì Stai lì Aspetta i bastoncini Farma Hai tutto il tempo che vuoi Non Non No aspetta ho presso gli occhiali Non è una speedrun Quindi stai fermo lì Aspetta i bastoncini con calma Ecco così farma salute Un pezzo per volta Piano piano Buono buono Ed è morto E chi è che sparamo? I bastoncini Farma salute Non morire Perché sei abbastanza avanti Ok Perfetto Ok Il fucile Il fucile No Tuttica migliore questa Ok No quello Ma usa i numeri Il fucile è 3 Usa l'altro fucile Questo fa schifo I bastoncini Farma salute E se le devono ancora spawnare Mi dici come devo fare? Appunto Tornandietro Prendi gli altri Nel tempo che fai il corridoio Sponano Ok Ora vai nell'altro Il tempo del corridoio Già sponano Guarda Ancora 33 nemici L'importante è non morire L'importante è Ok hai preso un medikit Cioè poi il fatto che sono 33 se sono solo quelli di questi Chiave gialla E dall'altra parte Ok hai preso perfetto Le cure Comunque con i bastoncini Vaglio oltre la salute massima Vuoi vedere che trovo Mora la chiave gialla? Bingo Duro se chiede una Una terza chiave Le bestemmia La Mosconi Adesso ti chiederà quella rossa Dove cavolo può essere quella rossa? L'hai brutta la vita Ma la fai Io posso Mordadio Ma vedete che mi stemmiava la Mosconi Ottimo Hashtag sclero No Allora Dove sta cribbio di chiave rossa Dio BONO Ok è arrivato il momento di Ah no è vero Non posso Non posso andare a cercare con lo spettatore Mi spiace Non puoi fare la clip Non puoi fare la clip Vabbè faccio la highlight poi C'è un teletrasporto Dove? Ho preso io prima con lo spettatore Però non mi ricordo dove è Va verso la f... Cazzo Non mi ricordo Aspetta vai dritto di là Vai dritto di là Ok vai in quel corridoio Ah no ci serve una chiave Grazie Cazzo Aspetta Ok devo fare poi l'highlight A 50 minuti circa No vedi qua c'era la blu Non è che forse siano lì quelle porte Eh quello stavo pensando Non andare con l'ancelazzo Questo è l'ascensore con cui si è salito prima Eh sì Ascensori Velli Allora se quelli mezzi sono di ascensore Dove trivio postare questa trivio di chiave gialla Eh quella rossa manca Eh quella rossa scusa Grazie per la correzione Intanto ammazza questi baroni Ed esamina meglio la piscina Sarus Grazie Lo sto libero in piscina Usa i lanciamissili Non li ammazzi Fanno un botto di vita i baroni Ok Allora vediamo un po' se sta qua Eccola quella chiave rossa E' nella piscina Vai Mi sembra che si abbassa là Quando passi sulle scale Si abbassa la fontana Forse Si Non l'ho presa Riprova Salve Le bestemmie No 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 Non riesco a muovermi Ma eh sì Era un po' anche a me prima Mi piace come Elia non mi abbia nemmeno salutato Oh forse Siamo tutti a bestemmiare Buonasera No Se vuoi entrare nel server è quello stesso di ieri Eh il problema è che non lo so se si è scontrato Ah Eh ricordati che abbiamo cambiato questo Siamo su Zandronome 3.1 comunque Eh che è tipo un labirinto qua Ecco per Oh no What? Non capisco No 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 non capisco Non mi capisco Non mi capisco No E' strano Ah è strano Non sento poche Mi dice Oye Ho detto che vi Vado nella live a fargo Porto morale Un po' Non posso Non posso Aversi dovuto entrare prima della live E fare la clip Quando NBC è impazzito Mio Dio è stato ancora a giocare Aspetta L'hai presa L'hai presa Vai Cori Scappa Scappa Guarda come ho arrancato Ma comincerò Oh ok Il Bosch è arranca in fretta Ieri sono arrancato io senza fare nulla Non ha senso Non lo so sono arrancato io Ieri Aumento il volume di Bosch Non lo sento Ok Aspetta Ma da prendermi il cappello da 200 E con tutta quella lava Devo fare il Ras B Alla Counter Strike Cosa? Hai un sacco di delay Forse Non so Prima stavo anche la canto di connessione sul gioco L'hai spiegato la fine Il BFG che è culo No il BFG dai io non ce l'ho Vabbè c'è Ne abbiamo uno già muo Se muori Lasciaci il BFG D'accordo e mi ha cliccato Cos proprio Per cellulare perché sono da cellulare Stai laggando te comunque Sì Allora da dove si esce mo? Oh c'è la mappa qua Comunque turbo qua è scasso Non vorrei dire ma è scasso Uno contro uno Sono parzialmente invisibile Sono parzialmente buio Ma stavo a dire perché mi sembrano la gamma in questi casi Deve nemmeno risultato Turbo qua Turbo qua Se facciamo uno contro uno Quattro stock Io prendo Pirbi Veramente Veramente Per sassire il mio potere Ah io faccio schifo a Smash Bros Ci sono i nazisti Sicuro se uno ti batte con Kirby a Smash Bros È da Da disinferrare il gioco Cioè non tu ti metti sul mio Nintendo Non capisco perché si deve vedere così male La luce al buio su Zandross Sta sul cazzo Vado a vedere Non lo so A me si vede normale E io devo vedere impostazioni Probabilmente modificano la video Boh A me è normale Allora Torniamo dentro Mannaggia Qua serve la chiave blu Qua serve la chiave blu Ah chi? C'è troppo spazio Troppo spazio Troppo spazio Troppo spazio Mi servirebbe Dero da baione Ah ma io ne sono andato tutti qua Qui ce n'è uno Ok Sono fuori La chiave blu E sta la chiave blu E sta la chiave blu E qua sopra Chiave blu che è qua Ok come è la chiave blu che è qua? Ma ho trovato la chiave blu Ma come la raggiungo? Posso è cresciato E poi c'è sempre Crascio Ah sta là sopra Forse Da qui Che cavolo Connezione interrotta Mi hai dato una gandata al gioco Dai Ma Non so Forse ora mi sentite meglio Ma che si stanno tossando Boh Non credo Perché per due volte mi riserva problemi Cavolo 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 Mi hanno spazzito Che savolo Ma ok Senti con tu Vedi Ma io la mappa Perché non guardo in base a due Chi è che sta tossando Chi è che sta tossando il server Comunque Ah turbo Ma ecco perché mi fanno tutti male Sempre con me Io riservo non ho valgato ancora molto Allora Perfetto Tu non lo sai ma il Il dire ne si discorda occupato Un gigabit Ma questo ha gli occhiali Oh ora si che ci vado Ci vedi però Venga chiave blu Si l'ho sfumata Non so come raggiungerla Io quando l'ho raggiunto non ho esplorato bene sto magazzino Ah si non è La sol Deve essere qualcosa per salire Ok di qua è ancora inesplorato La chiave blu Ma la chiave blu Non ti c'è tutto Qua sono Ah no ok Serve la chiave rossa o arancione per arrivare la chiave blu Credo Non è giusto Ma la rossa sta dentro quella bruna Che stai a dire? Allora ci serve quella gialla E lì a quanti livelli vi è rimasto? Non decido ancora Siamo la 21 quindi forse ancora un 9 livelli Sì perché non è la 3 parte O un di 11 Sì c'è la chiave gialla Sì la chiave gialla serve Ancora 11 livelli comunque E dove può essere sta chiave gialla? Forse Che sia quella qualche parte Questo magazzino è un bordello Cioè è un labirinto Eh infatti gli ultimi livelli Sono sempre stati labirinti Quatt'affa Eh beh il classico Doom C'è una parte di santa che mi interessano i labirinti Allora che qua c'è la chiave blu Allora qua no Qua su che c'è? Ma ci sono Un del trasporto ho trovato C'è la plasma danni Ah un belotabaione Finalmente Come cazzo bisogna andare? Aspetta Avevo visto qualcosa qua Io mi sono perso E qua sono arrivato prima Devo provare a mettere sulla mia tastiera Il suono della pentola Ma no quando Quando mi... È stupendo Fidati Il suono della pentola è stupendo Non so lo so dove Devo farlo Ma via la tastiera Che suono il suono della pentola È bellissimo L'abbiamo fatto su FL Studio Ho inclusi sulla tastiera Aspetta Di qua c'è un ascensore Dove? Non so se... Il simbolo dell'ascensore però è una scafra Qua c'è l'ascensore Ok sto vedendo i suoni strani Dentro della pentola Vediamo se si chiama Scri... Ah ecco qua Dimmi che non ti ho trovato Sì Trovate la chiave Quale? Gialla Finalmente Oh posso fare Con la tastiera Tipo non lo so Risata Dov'era la posta Che chiedevano Era nel magazzino Sto andando io Ok Sto andando io Ok Chiave in blu Voglio vedere se esiste tipo Non lo so Di turbina Signori C'è l'uscita E io sono Un attimo occupato Dov'era la porta blu Ok Ho preso la chiave rossa Motherfuck Allora Guardi un uomo No Sono morto Come sembra Ho droppato la plasma E io sono Io Sono colpo questo S settings ho trovato ho trovato il solo degli applausi un applauso ma un altro di quelle mappe ma chi c'è i ruggi nella tastiera io sto cercando i suoni per tutto abbastanza da comparare con la pentola bocciotto direttà mostro per dire che stavano non so dove vado anche il giallo ma ho trovato io ho trovato degli zombie e mi ha detto adesso sembra un po' credito me c'è queste ultime onestamente che da che cribbio era quel suono non lo so c'è scritto tipo frena macchina che passa macchina che passa e poi qual è quello dopo stacco un attimo il microfono oh questo è il suono perfetto come se sta roba un sintetizzatore rotto non lo so c'è il suono del terreno vediamo questo è un sintetizzatore suono di turbine ok ho trovato un risata chiave rossa il motore ah doveva tornare indietro si ma voleva parlare di sprint test che messi delle candele mitragliate mitragliate lì giù questo lo faccio con grande quando lo fa le live le 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 è strano ah non è pianissimo no qua sta il teschio di cattano ovviamente è il teschio di un severdemon adesso voglio vedere la live io che faccio suoni ora faccio un attimo caso suona qualcosa di live ragazzi sto per premere un pulsante occhio occhio bella porca tua ma dove sei usita fuori dal muro vuola non so che suonare suona qualcosa di doom e non so non lo so aspetta ma suona meganovania eh eh la so però devo cercare spartire ma io io la so suonare te no what io non non suono me suono solo musica di alta qualità e questa è alta qualità troppo troppo alta qualità e appunto non è il tuo livello ancora esatto non è il tuo livello aspetta aspetta eeeh oh mi perchè è tutta a me vediamo questa questa perchè ha spesso di scriverla perchè ha spesso di scriverla per niente aspetta aspetta forse è così in tono esatto va bene non mi ricordo vabbè non mi ricordo posso fare le musiche che mi ricordo oh si 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 suona one winged angel dai dai si abbiamo visto in un po' di eh si faccio pure le voci posso suonare no posso suonare le voci no le canzoni lusse aspetta che non mi ricordo aspetta che non mi ricordo tetris no 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 tetris no 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 tetris vediamoci l'altro logo una versione passata trovata 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 aspetta eh caspitani iabri 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 questo strano ufficialmente nostro cosa ehiabri questo strano ufficialmente nostro egli è l'ospite egli è l'ospite aspetta devo sentire il slide per le nocce mi sono persi il slide per porto pittana dovevo avere più delle lepre una volta ok non mi piace stanno esagerando troppo roba ok c'è un berserker se mi serve per curarvi si mi servirebbe aspetta che responi quando quando il bot dice che vi sono 8,2 ore di visita now live la spammata dopo 15 minuti aspetta aspetta che spammò così vedo se è livello io non lo so iabri no no aspetta io lo vedo subito che ha scritto via via a chiave rossa a chiave rossa a chiave rossa dove? eh qua ok non mi piace dai dai facciamo ok morto? morto c'è una cosa è strano in questo quarto cosa? cosa? ehi infatti infatti fatto che c'è che c'è i muri i muri morto 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 cos'è? un po c'è quello lì aspetta muri quelli di pietra c'è qualcosa di strano peggio delle stile a testo il tuo pacco e rimango e si ripetono tipo dopo due prossimi ma sono quelli originali cazzo io tipo la mia memoria è tu è però superiore a quella di non so che fare guarda guarda te scompari per tipo dieci mesi e ti ricordi tutto e ti scordi le texture esatto e non è la prima volta i muri scusate la porca che cosa mi ha dato l'anno peottano? ma dov'è finito surbo fatica? boh allora stavo controllando quello blu ok ho preso ho preso ho preso il teschio arancione bornal esatto azzo ecco ecco un po' qua. Io sono perso. L'Arschweil. Stavo facendolo. Un altro. Ok, è morto, è morto. In che stanza siete? Eh, in quella arancione. Eh, ho premuto il pulsante. Sono apparsi dei pieni elementi. Stavo per buttare. No, sono apparsi delle morroidi. Devo imparare la tattica del non far spawnare i pieni elementi. Cioè, far spawnare l'osso. È possibile. Non l'ha sentito niente. Che ha detto lì? Che ha detto quello di TurboFa? Io sono parzialmente invisibile. Io sono parzialmente grido al buio. TurboFa, cos'hai detto prima? Non l'ho sentito. Il trucco per non far spawnare l'osso. Sparare dal pieni elementi. Ok, ho fatto il pesce per Berkronomi. Stavo pulsante dove stavo? La testa troppo diventa in confezione. Non ho capito niente. Bene. Vedi? Ah, era uscita. Che c'è qua dentro? Ok, quando è che fai... Oddio. Quando è che facciamo Kamasutra tutti assieme? Non è safe for Twitch. Basta che non vai nella mappa... La mappa 30 solo. Basta che ti ricordi di prendere l'uscita safe for... Eccetera, la faccio vedere poi. Perché adesso non vuol dire normale. Con Porsche è rischioso. Tu devi prendere l'uscita safe for work. Noi prendiamo quella... Cosa ho fatto io? Spiega. Per Kamasutra. Ah, ho capito. Però non... Oh, cavolo, adesso che si fa, non mi conosco una canzone da Porto. Adesso la faccio, non lo so, tipo... Tipo... Tipo Mega Lovagna. No, 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 no. In the asses, while dunking. Mancato. Preso. Allora, qua sta l'altro. ed ecco l'uscita sì ma servono le chiavi serve quella ragione serve quella ragione c'è ancora la rossa e la blu da prendere la blu sappiamo dove non mi ricordavo dove la porta ecco che posh stava premendo i tasti a caso di nuovo ok ho trovato un segreto apparentemente ok ok rossa apparentemente la chiave rossa è un segreto manca la blu la porta della blu ora un segreto queste lapte sembrano pure il datemage che è ok possiamo uscire possiamo uscire perfetto e questa volta vedo il tuo cazzo sei usciti? sono andando io ditemi quando uscite ora bene questo effetto di neve mi piace la texture mancante sullo scavino un po' meno carino siamo a casa di babbo natale non mi ricordavo i demoni oddio ho 2 hp ho 2 hp sono morto è morto io il fox fottiti si chiara e dalla suona una musica da funerare perchè è morto e questa è una cosa ma la popolazione l'avevi premuto non non un giudice ma non è che i morti non parlano lei ha chiamato solo le tre parlo guardando un uriano cosa è Elia è Elia che si guarda è già in grado di riprendere ovviamente OBS stesso e la dashboard di Twitch non contano aspetta, aspetta qualcosa di meno o vabbana ecco come far andare il video tutti che ti guardano aspetta, aspetta invito tutti a vederci ho un buon gruppo di 15 persone su Telegram nessuno ci guarderà lo stesso amplifichiamo amplifichiamo questa bellissima community a Doom aspetta, aspetta spam dopo gli avipati ti faccio vedere un aspetto in cui sono entrato come doppiatore perché non ho ancora capito che ti ha però mi danno due euro che vado oh bello oh un aspetto brutto ti dico solo Sans e Thanos e nico 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 ma poi lì ha finito la punta in questa live questo guarda vedere il capolavoro il video io vi faccio poco oh ma c'è il nome del livello custom santa shop quando si completa ti dà il nome custom o che mi sta laggando come possibile fatti ragazzo ma c'è qua non è che fosse avversario giandrone è veramente turbo fa riesce a laggare anche quando è host ma non è normale no ma più che altro hai sentito gli lagga Doom Doom ho sentito il mio vecchio portatile non riceva l'emulatore del NES è molto l'es lagga quando ti lagga i giochi per amica quando ti lagga Fog quando ti lagga un gioco più vecchio del pc stesso quando ti lagga Fog quando ti lagga Fog quando ti lagga Fog quando ti lagga Fog qu'è essa quando ti lagga Fog credo sia uno tre franca credo sia cari ma tutto io perché a 90 migliori in più di quello che deve fare 4 a trovare fg comunque per colpa delle volte che ho messo un uomo e andare a raccogliere pezzi è diventato così realistico che questa 90 giga seriamente questo ma poi è comunque dei temici palesemente un mappone qualcuno qualcuno ha scritto ciao bob qualcuno ha spammato veramente non ha scritto l'articolo del marco nonostante ciao buono di anni per me però non c'è il canale non ho trovato n non è vero non è vero però non è vero il suo calcio la vita ho trovato un altro acqua ora ora è il porto anche lui è tutto posto I'm gonna say the end word Oh yes Allora Queste mappe mi stanno facendo più schifo Allora quanti Abbiamo detto una mezz'oretta fa Ma questa mappa è diventata una noia Ma dentro mi sembra tutta roba da deathmash adesso Più che mappe effettive Siamo mischiate le mappe della storia con la deathmash Forse Però ci sono i mostri Vabbè i mostri hanno in deathmash ci puoi averli Ti fanno compagnia E lì a dovresti fare la... Dovresti non fare però su... Seb che canta la canzone Cosa? Io non capisco come mai Ma hai Culo 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 Che cazzo ho preso La... Eh come si chiama la canzone Cambia cazzi non sbaglia mai La canzone di Zeb è buppata da me Esatto devi mappare quella per noi Ma facciamo le gare È vero Oh merda Un po' fuori per tutti i secondi Che usalo Io la farei sia per osu che per guitariro Per guitarismo tipo non lo so vedi Vedi Akai Vedi Akai Ho cominciato a dimanere pesante Sono rotti coglioni Vedi Akai Vedi Akai Vedi Akai Vedi Akai Vedi Akai Eh esatto devi mandare Akai Eh esatto devi mandare Akai Tipo Le chiami soulless Hey C'è la canzone dello scazzo a cazzo Che cosa è questa stanza? Tutto a buio Oh che è la rossa? C'è una rossa vai Ce l'ho sentito Dove è la porta rossa? Tuffalo 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 Non so che cazzo sto suonando però è per così Turbo fa turbo fa Turbo fa Dimmi 3 note Do mi fa Perché me lo fai così facile? Va bene C'è bisogno di andare Intanto ho ammassato tutto Movie box Ma non, siamo sulle nabbi Con questo sono mappe dei speech Sono spolesamente mappe dei speech Sono simmetri Dimitri note te Fa sol Non te Ah non turbo povero di Elia che Turbo fa è troppo facile Ok Ma come mi ricordo con i soldi non ho fatto Brava con le dico Ok 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 re diesis do e aspetta re diesis do una figa no re diesis do e sol maggiore ok dire vai perché è troppo facile turbo fa un'idea che questo è la cavola per l'argomento non lo so io non lo so io non lo so io non lo so io non da nessuna porta ok comunque comunque e lì anche ti feschi porti le note e la mia esperanza le mie esperanze sono sono più di te ehm bcc company e la più diretta di company ma per me prima ti ho fatto due veramente come devo chiamare m compagni mbc company x numeri a casa no a 2 un po' 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 almeno che non è spesso il transport m mbc compagno mbc compagni aspetta aspetta fammi del totale trasporti col cavolo che aiuta mbc compagni ho deciso di chiamarti piero così è che fa io non lo so io le note le conosco in inglese ok è meglio è più facile non è più facile sono solo lettere e ho capito ma in inglese si dgf ho trovato l'occhiere blu c sharp g g sharp g string faccio una canzone che parla mi stanno gangbangando i reverend ho un segreto un segreto ho 69 hp il numero con la s non so di chi fosse quel missile ma grazie cosa non so di chi fosse quel missile ma grazie ci ho pensato io grazie anche questa è una palestra una canzone sono simmetrica c'è l'uscita ho trovato l'uscita ma sembra il chiave blu e finiamo io mi sono spunto la mano no che non era così in inglese ma quella era si si ho fatto la versione jingle bass non lo so è jazz tipo no fai la versione jingle bass metal semmoi è tipo canzone non lo so è quello me lo chiami metal faccio facciamolo eh aspetta vediamo vediamo turbo fa turbo fa dimmi una parola a caso in italiano una parola a caso in italiano sì citoplasma cazzo come faccio a fare una canzone su citoplasma senza sapere che cosa è citoplasma è liquido che c'è nella cellula l'acqua che c'è nella cellula no lo so che cos'è lo so che cos'è faccio il giro lo so che cos'è non era quella è una barra no vabbè un'altra parola una parola più comune ahhh luto... occhio occhio vai 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 tre e due uauuuu anzi scegli te via con la porta e via fucile c'è c'è lo!... non riesco a capire che ha detto fucile allora c'è il cubo delle anime della cross il non è che c'è il cubo del cerai con sin adesso passi una canzone di cucini ma proprio 30 questo ma poi 30, abbiamo finito l'ultimo livello dove andiamo a un sin? spara ho trovato fanno boom dov'è te l'hai trovato? questo è il suo lavoro, è tipo pizza, mozzarella, rella, rella pizza, mozzarella chiave, chiave dalla rella, 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 rella io so suonare la roba napoletana zoono, zoono, zoono aspetta ecco, ecco, quello quella è la versione ancora più una versione brutta la parola colattissima vuol dire switch 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 terrone terrone? metti suonare a violenza che si è strutturato in questa stanza quella con la pisi può dire piccio palo polentone si può dire la parola con la s quale? sans ah sans si può dire proprio c 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 Ok. Abbiamo finito. E' finito il WOD. E questo è la mappa 1. Metti 31 e 32. Metti 31 e 32. Vediamo le mappe segrete. Metti 31. Un attimo che trovo qualcosa per il sistema server. Ok. Andiamo a 31. Metti 31 e 32. Vediamo le mappe segrete come sono. Ma c'è un'altra roba qui dopo. Non so se lo faccio male. E poi vi faccio vedere. Allora vediamo. Allora questa è la mappa 31. Ok. Ok basta. Ok. Ok al berserk. Posso tirare a pugni i maiali. Come ho fatto nella speedrun. Chi è morto? Io no. Allora si è contato. Arse file. Tanti archfile. Che suoni qualche strumento così facciamo un trio tra io e te e te. Ho una tastiera però non la so suonare. Non ho tempo di impararlo. Bene. Via. It's down to you and me. BG. You are a night freak. Faccio la canzone del gioco che fa uscire beperla. Da qualche mese. Vediamo se lo conoscete. Sono morto se tu lo metti io. Ok prendi la chagabucia che andrò l'uscita. La battuta è che fanno uscire di nuovo Skyrim. Perché è l'unico gioco che può uscire. Ah beh. Raga che se ne ho acquisto qua i pasti. No no. Non staccare. Guardate che è verde. Cioè abbiamo fatto tutti qua. Non lo sbaglio. Sì mancano solo le bonus ma le bonus mi sa che li fanno cagare. Dai prima voglio vedere. Eh voglio fare un attimo prepararmi a vedere un attimo. Tu lo fa. Tu lo fa. Ti ricordi la cara che dobbiamo fare tanto tempo fa? Di trovare il video più schemi e farli vedere lì a vedere. No non me ne ricordo. Non me ne ricordate cazzo però video storico. Eh? Video storico lo trovo senza problemi. Lui dobbiamo rovinare le sue fonti. Alle sue fonti. Oh finito questo vado. Roviniamo la vita di Elias su Watch2Getter dai. E' il mio racconto cazzo. Mappa 32 vai. Mappa basta. La 32? Vai provare anche la 32 fa schifo te lo dico già. Sicuramente. Boh divertiti. Ti tengo per te lo saprei solo per te. Oh che bello. Già partire con la cosa invisibile. E' proprio il culo. Cazzo avete messo. Turbo fa. Cosa hai messo? Cos'è? Che era quella musica? Perché si sente? Sì. Sì. Ah strano. Non pensavo. Tipo io sto sentendo. Ah. Tantana. Tantana. Mi sono bene in cielo. Era Epic. L'ho visto lì. Comunque. Ma dopo sei per quanto tempo puoi rimanere? Un pochettino. Non so. Finché non vi sto. Allora facciamo quella gara velocemente. Vediamo quanto possiamo rovinare la vita del Dio. Ok. Tanto per un po' adesso vi sarò a casa. Ai tuoi? Per far vedere. Mh? Per far vedere. Facciamo tipo delle categorie. Facciamo diventare. La seconda categoria meme. La seconda categoria meme di nuovo. Meme. Eh boh. Categoria quello che troviamo. Categoria quello che troviamo. Categoria del Votux. Cosa c'è un video. Categoria mettere il video tutto che dice tipo maiale perché nessuno l'avrà male. Categoria Cebb. Categoria Zebb 69. Categoria Zebb 69. Categoria io che suono la tastiera. Ciao. mi viene poi categoria io mi sono andato da tutte perché se fai io andiamo tutti da parte secondo me giurbo fa vado qui giurbo fa dici dici le tue ricerche fornab no no giurbo fa e quando è stato in Italia non gli è fregato niente perché non è stato il tag lol i tagliamoli in gabbia sono più cancro di quelli liberi finisci veloce via, finisci veloce via che dobbiamo fare la gara intanto hai l'ultima motta questa che sono morti tutti i mostri non è uscita adesso cioè è più facile il 32 che il 31 è facile ci dimostri se uno mi vuole far assolare facciamo tipo le battaglie non lo so tipo io faccio un accordo e uno fa l'accordo che risolve a caso perché che si che si che si che si che si a questo gusto a questo gusto quando hai tipo un interdito no? che lascolti bellissimo aspetta ritorno nooo non so una cosa e non posso tu non sai quanto tu non sai quanto quanto mi facevi incazzare quando studiavo musica ancora cioè studiavo ancora musica fatto bene non a cassa facendo adesso facevo le improvvisazioni le donne non so ma e così e poi finivo tutto finivo così si incazzava malissimo veniva sul pianoforte e faceva così perché c'era tipo la tipo Senti quei lì che diventavano peschini Da fastidio, io facevo così E dopo arriva lui Tipo lo so Tipo Qua mi dava fastidio Vabbè io me l'ho Soltanto due tastiere di merda Faccio poschetti Così Mi so Dei mai Fumisco così Oh finito, perfetto Bene Finita sta mappa Sto guardo in con il complesso è un po' mediocre La mappa 32 è facilissima Te ho ucciso tutti i monstri col comando Kill Monsters No, le ho ucciso io prima Ok, allora, fai una stanza Watch Together Fai una stanza Watch Together Aspetta che passo OBS su Chrome Non so se ti conviene tenere ancora un live Siamo in live Non so se ti conviene tenere ancora adesso Perché? Sai com'è? Ti mandiamo un video No Ascolta TurboFa Ti manteniamo su YouTube Eh ma Se manteniamo su YouTube Però comunque anche YouTube A volte ci sarà cose un po' strane Ma YouTube YouTube non è RedTube Tranquillo, tranquillo Se puoi stare su YouTube Puoi stare pure su Twitch Sei mai andato sulla ARL Ah beh sì è vero Eh ma il mio non è un TTStreamer Però Non ancora almeno Cosa? Il mio non è un TTStreamer però Vai vai Tranquillo Tranquillo Poi sta stanza Intanto devo Devo loggarmi su Watch Together Aspetta Perché ti vuoi logare su Watch Together? Perché siccome io ho l'account Mi loggo Ma perché l'account? Perché ho l'account di Watch Together Ma che sei nel freno dell'account di Watch Together Mamma mia Eh sì Non che fosse l'account di Pornhub Eh no Quello era Tux Su serio? Sì E lo uso? Non lo so Un tempo l'avevo Vabbè non penso l'abbia rinnovato Aspetta Aspetta Vi faccio Vi faccio reagire A Io che compio Cazzo e brucia C'è letteralmente Un mio amico Che mi fa Mi doppio Mi doppio Papà Io non so Che cosa Hai fatto un'animazione Io l'ho fatta con Pornhub Parla di Nico Che vuole fare sesso con Santa Perché? Perché? Non lo so E io ho detto di sì E quello è il problema Perché? Datemi il link L'avete mandato il link alla stanza? Ok Sta con OBS No Filati Filati È tutto pulito Non so niente È un segno Tipo Forciando Sì Certo Il canale dove ti l'hai messo? Il canale Il E poi guarda che su Twitch puoi disegnare pure porno Ce l'ho spostato per sbaglio Non credo Quindi stai tranquillo Non c'è porno Te lo posso figurare Non troppo Almeno È un segno Non chiudere la live Dai Mettete 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 La cavola in stanza Sto creando la stanza Aspetta Poi non credo la stanza Ah sì Poi ci sta tipo Kira Di Yoshikage Di Kira Yoshikage a caso Dove la spammo? L'unica cosa bella è la L'opering Dove la metto la stanza? Mettila su Cheat Chat Tanto se entra qualcuno Mi frega un cazzo Soffrirà con noi Ok La metto in spam Mi spam Vai vai Mi spam Sei pronto? Io ho già un video pronto Anch'io Aspetta Prima vediamo Metto quel video Che devo mettere Aspetta che entro Ok Eh Aspetta La playlist misteriosa Beh Per sapere tutto Alla prossima Ciao a tutti No Non chiudere Ma è questo? Grazie a tutti